24, chiamiamo in gara 7 concorrenti a partire dal numero 5, Amoroso Gesùè numero 84, Curcio Raffaele numero 143, Roby Valerio numero 172, Don Elson Di Soma numero 173, Lomato Iuri numero 323, Pochini Alessandro numero 316, Rito Daniel giurati a voi ok, se mi lasciate affrontare, allora posizionatevi di fronte, di fronte ai numeri, avete lo spazio giusto posizionatevi di fronte a un numero, avete lo spazio giusto per 316, di fronte di fronte a noi, come di fronte dove c'è il signo per terra, avete lo spazio giusto per ora, allora, 4 di giro a testa 4 di giro a testa Quarto ritiro a destra. 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 Allora, se fate i mani massivi, fate i partiti. Condizionate i fronti a un numero. Avete lo spazio perfetto per forzare. Ok. Allora, tutto vicibile. Quarto ritiro a destra. Forzo temi. Canby yunyi! Thierra! Yeah! Here you go! il piatto di stanzione volto l'alba a piacere allora rilazzo facciamo il switch 172 e 84 Eccolo, uno, ritorniamo di fianco, in espansione, espansione, bello, eccolo, 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 bene, schiena la fine, lo tropecce in diretto, faccia la testa, la testa, via e vai e e e e eccolo lì e 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 ok allora abbassiamo la base facciamo accomodare quattro e poi cerchiamo anche con questa prevenzione allora torna a premiare per l'ultima volta questa categoria Stefano Moretti iniziamo dalla posizione numero 7 della classifica che va il numero scelto 43 con il Valerio ricevi la medaglia di partecipazione che è stato al centro dopo di che ti sposti alla tua sinistra per raggiungere la piazza numero 7 Sesto classificato di categoria il numero 84 Curcio Raffaele stessa identica con il nostro Stefano Moretti con la differenza che poi si finisce a destra sulla piazza numero 6 quinto posto per l'atleta con il numero 223 Pochini Alessandro che prima riceve la medaglia e poi si sposta alla sua sinistra per andare a raggiungere la posizione numero 5 quarto posto appena fuori dal podio il numero 5 amoroso Giosuè e allora andiamo a scoprire le medaglie fregiate a destra Giosuè a destra Giosuè sei il numero 4 grazie dicevo come è composto il podio terzo gradino del podio va al numero 170 due quindi medaglia di bronzo da parte del nostro Stefano e poi un passo a sinistra per la posizione numero 3 di qua di qua di qua di qua grazie mille tra i due e tre rimasti in gara scopriamo attraverso la programmazione del secondo classificato chi è il vincitore di categoria si piazza al secondo posto il numero il numero 173 quindi medaglia d'argento per iuri rubato e dunque la prima piazza della categoria di qua di qua va al numero 316 Enrico Daniella a lui la medaglia d'oro a lui la coppa e il buono scopo di 100 euro dallo sponsor Secondo titolo di giornata un applauso a tutti i partecipanti di questa categoria grazie mille ragazzi potete rientrare in backstage prima di procedere con la prossima categoria chiamo sul palco il presidente Sandro Ciccarelli